Nuovo giorno, nuova challenge! Quest'oggi cercheremo di arrivare a 5 stelline di pulizia e di resistere il più tempo possibile! E in palio ci saranno ben 500.000 dollari! Ragazzi, come va? Io sono Fereniki! Io sono Steph e che se ci chiamo GTA V! E siamo tornati qui con una nuova fantastica challenge! Sicuramente quella che ci avete chiesto di più nei commenti in assoluto! Cioè proprio ce l'avete spammato tantissimo! E quindi oggi faremo la challenge che chiameremo quella delle 5 stelline di pulizia! Quella delle 5 stelline di pulizia! Sì, ma la sono inventata adesso! Ti sembra un bel nome? Sto improvvisando! Sì, è bellissima, è fantastico! Comunque, come funziona? Allora, abbiamo 3 obiettivi e 3 ricompense! Il primo obiettivo? Arrivare a 5 stelline di pulizia! Non l'avremmo detto! Secondo obiettivo? Durare 5 minuti con 5 stelle di pulizia! Terzo obiettivo? Durare 20 minuti con 5 stelle di pulizia! 20 minuti la vedo grigia! Anche io la vedo grigissima! Ci sono 3 premi in palio diversi! Il primo, quindi arrivare a 5 stelline, è 100.000 dollari! Il secondo, durare 5 minuti, sono 200.000 dollari! E il terzo, 500.000 dollari! Quindi, cara mia, voglio assolutamente 500.000 dollari! E chi è che non li vuole qui 500.000? Sì, però non mi sembri abbastanza arrabbiato oggi! Dimmi qualcosa che ti fa arrabbiare così ti carico al 100% per questa challenge! La tua faccia! Allora, guardami bene! Ok? Ho pure lo stesso cappello nel gioco! Sono spaventoso, mio Dio! Se ci mancano gli occhiali da sole, sei uguale! Siamo sincronizzati nel mio personaggio! Per questo caso, per questa sfida abbiamo pensato a un posto molto, molto carino e molto coperto! Però, ovviamente, dobbiamo attirare la polizia! Quindi, come prima cosa, attiriamo la polizia e poi andiamo a far vedere il nostro bellissimo posto! Mi lasci l'onore? Sì! Perfetto, dammi un attimino! Pensavo a una bella granata nel distributore! Secondo me, fa abbastanza danni! Vediamo un attimino! Ti è investito un NPC! No, sì, ma c'è un tipo di una gang che mi sta sparando! Ma perché? Ma che sfigaccio io! Dopo aver distrutto non so quante macchine, finalmente, la polizia si è degnata! E non ci vuole venire a cercare! Aspetta che arrivi! Li mitragliamo un po' al parabrezza e così arriviamo a due stelline! Ok, tre! Tre stelline preferivo non arrivarci subito! Dannazione, perché dobbiamo anche arrivarci al posto dove ci fermiamo! Eh, esatto, esatto! Allora, mitraglia questi qui! Non ci dobbiamo far seguire! Polizia! Scusi! Allora, occhio che c'è la polizia davanti! Due macchine di polizia, pronte a mitragliarle! Ok? Prontissima! Una si è buttata giù da sola e le altre le uccisi! E l'altro ci ha fatto sbandare! Dannazione! Ne arriva un'altra, un'altra, un'altra! Ok! È tutto a posto? Sì, 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 io sto mitragliando! Abbiamo un elicottero sopra la testa che ci punta malissimo, la vedi la luce? Eh sì che lo vedo, purtroppo! Ah, veloce! Veloce! Credo che dobbiamo scendere da qui! Scendi, scendi, scendi! No, non è questo, secondo me! Eh, vabbè, scendi! No, lì non ti porta! Dannazione! Sono già morta, sono già morta! Eccomi! Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo! Allora, aspetta che mi copro, mi mangio qualcosina e mi metto anche il giubbato antiproiettile! Allora, giubbato antiproiettile, metto un super pesante e a questo punto mi mangio uno di questi! Ok! Non so da che parte arrivino, tu controlla quello lì, quell'altro io controllo questo! Ok! Allora, in pratica, sto posto ha due entrate, quella dove steve e quella dove sono io! Sì! Quella dove sono io l'abbiamo pure bloccata con una macchina, quindi da lì non dovrebbero arrivare! E, appunto, che i polizioti possano arrivare solo da una direzione o comunque solo da queste due porte, dovremmo riuscire a gestirli e riuscire a sopravvivere! Speriamo bene, speriamo bene! Esattamente, questo è il nostro piano, essendo un posto coperto teoricamente, gli elicotteri non ci dovrebbero dare fastidio! Che sono la cosa peggiore degli elicotteri! Esatto, dovremmo essere tranquilli sotto quel punto di vista e avendo una sola entrata dovremmo riuscire a gestire la polizia, anche se è tantissima e super armata! Si spera di farcela, perché secondo me falliremo! Oh, 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 oh! Che succede? Uh! Ma come sei entrato? Ma da dove? Arriva un altro! Ok, ucciso, così mi prendo le stelline pure io! Oh, mamma mia, hai sbucato da non so dove, sto disgraziato! Mi hai fatto venire un infarto! Ma me ne sono venuti cinque! Aiuto! E poi quello qua sta facendo lì sotto? Scusi, muori? Ehi! Grazie! Allora, io ho paura che entrino anche da sta parte! Anche io ho una paura incredibile! Dai una sbirciatina! Esatto! Proprio leggera, leggera! Mi metto qua! Fammi sapere! Controllo poco, poco! Aha! No! Tutto ok? Non mi sembra che stiano scendendo, perlomeno! No, 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 no! Meno male, meno male, meno male! La cosa bellissima sarebbe far esplodere un bel elicottero! Perché così andiamo subito a quattro stelle e si fa un po' più sul serio! E almeno arriviamo in fronte a cinque! Esatto, esatto, esatto! Però al momento non vedo elicotteri, ecco ne sta arrivando uno! Io provo ad affacciarmi! Provaci tu, ci provi tu! Ok? Perché forse senza niente affacciarmi ce la faccio! Dai! Dimmi che ce l'hai fatta! Sì! Sì, ha battuto, ha battuto, ha battuto! Però sono rimasta a tre stelle! E pure io! Pure io, pure io, pure io! Mamma mia, sta arrivando tantissima gente! Infatti stiamo coprendo entrambi a questa parte perché sembra che non ne arrivino davvero altri! Stai sparando tantissimo tu! Come sta andando? Eh no, stanno arrivando un sacco! Io da qui li vedo meglio di te perché sono coperta ma ho capito una visuale migliore e stavano arrivando un sacco! Ok, il giubbotton di proiettili ce l'è ancora pieno? Sì! Sì, sono a posto, sono a posto! Ottima notizia! Dai Ferenichi che ce la facciamo oggi! Lo sapevo che facendoti vedere la mia brutta faccia ti arrabbiavi e avresti sterminato la polizia! Ne ero proprio sicura al 100%! Comunque, ammazzati almeno una, ventina ai poliziotti, esplosi tre elicotteri, ancora niente! Cioè c'è una strage qua davanti e ancora non abbiamo le cinque stelline! Rischio un attimo, mi riaffaccio, elicottero! 3, 2, 1... Ok, andata, 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 andata! Quarto elicottero! Quanti ne dobbiamo distruggere ancora? Quanto casino dobbiamo fare se c'è da te? Cioè non basta, non basta questo! Evidentemente no! Anche perché poi ci arrivano i carri armati! Non so se in questa zona riescono ad arrivare, sinceramente! Oh, spero di no, dato che siamo in una diga, spero proprio di no! Ne stanno arrivando! Arrivano, arrivano, sì, li vedo! È caduto! No, l'ho sparato! Ok, cronometro pronto ad essere avviato! Appena arriviamo a 5, subito! Pac! E con un altro? Sì ben andato! Eccoli! Davanti, 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 davanti! E io non li vedo da qui, quindi aspetto che scendano! Mi ho uccisi altri tre! Ok, se riesci a coprirli va benissimo! Ne stanno arrivando altri, uno è sceso sulla montagna, non so... E guarda la... Cosa sta combinando? È cascata pesce in acqua! 5 stelle! Uh, vai, 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 vai! Avviato, avviato, avviato! Non me l'hai raccorta, vai, perfetto! Grande! Bellissimo! Allora... Allora, ce la fai a coprire che mi voglia faccere un attimino da questa parte? No, vabbè, si sta buggando di tutto! Sì, 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 vai tranquilla! Aspetta che ti ammazzo questi! Ok? Perché ho paura che arrivi, noi non so quanto questo passaggio possa essere coperto! Va bene, controlla il volo, mi raccomando, non ti esparre troppo! Nessuno, nessuno, nessuno! Vedi, funziona! Per battere la polizia basta una macchina! Ho notato, funziona! Mica male, mica male! Fantastico! State arrivando, sì, eccolo! Boom! Cecchinato in testa, grazie! È fantastico sto posto, è davvero una genialata mettersi qua, è davvero fantastico! Ho guardato un video, però non lo dire, Consolini! Non l'ho già sentito, gliel'hai appena detto? Mi sembrava una buona idea, cercherò il posto perfetto! Oh, io sinceramente, ti dico la verità, non sapevo neanche si stesse questa diga! Neanche io, neanche io! Mai vista in tutto l'anno che gioco a GTA, cioè mai vista! Infatti un tipo ha fatto, non tanto la sfida come l'abbiamo fatta noi, però ha proprio fatto un video dove arrivava 5 stelle e ha provato questa postazione e ha detto, è fighissima! E sono d'accordo, è perfetta in tutto e per tutto, guarda quello che se ne va a farsi un tuffo! Poi l'acqua gli dà la testa a questi poliziotti, si buttano in acqua da soli come dei pazzi, aia! Eh, ti stanno sparando! Mi ha distratto, poi hai sparato in testa, disgraziato! Allora, controllo un attimo, io ne vedo qua avvicinarsi, è una paura incredibile! Lo so che paura che arrivino all'improvviso! Perché non si capisce se sono sopra oppure da questa scala! Voglio fare un sondaggio, ok? Che chiede ai consolini se vogliono che una delle prossime challenge, la prossima che faremo è nascondino, ma una delle prossime, magari rifare questa sfida, però da questo posto dobbiamo anche scappare e seminare la polizia! Sarebbe epico, sì! Una roba improponibile! Sarebbe bello! Anche perché mi piace sto posto, quindi è vero si può rifare una bella sfida, mi piace! Pensa però scappare da questo posto! No, è difficile perché è molto stretto e appena esci sopra la diga è stretta stretta e ti rinchiudono subito, è difficilissimo! Anche con le macchine sono tutte a strade di montagna, ragazzi! Eh, beh, beh, non ti distrarre! Eh, ma perché ogni tanto si buttano giù da questo tipo? Sì, ho notato! Infatti li vedo arrivare all'improvviso proprio dritti in piedi e li li spavano! Fanno paura! Eh sì, abbastanza! Ok, buttato giù! Dai, forza, forza, forza! Ancora tre minuti e il secondo obiettivo è fatto! A quel punto ci dobbiamo prendere un caffè sei minuti passati! Sei minuti e trenta! Secondo step andato! Secondo step andato! Adesso mancano solo i venti minuti! Quindi ne mancano altri quattordici! Esatto! Quasi tredici! Vabbè, sarà una lunga giornata! Di sparatorie! Eh, vabbè, almeno ce li andiamo a sparare, dai, no? Abbiamo dei bersagli mobili! Poveri poliziotti, guarda! Per le nostre povere challenge! Ci passa sempre la polizia! Sempre la polizia ci passa! Non se la meritano! Vabbè, però è la cosa più divertente di GTA, scusa! Non è colpa nostra, ma di chi ha fatto il gioco! Noi semplicemente ci divertiamo! Eh sì, eh sì, assolutamente! Proprio vero! Quasi dieci minuti! Voglio divertirmi un pochettino! Ok? Sì! Cerchiamo di buttare giù qualche elicottero! Ok, ci sto, ci sto, ci sto! Rischio incredibile, sappilo! Allora, qualcuno da la mia parte, no? Allora vado un attimo da questa! No, 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 no! Non lo può farlo io! Ma dai! Rimani lì! Non puoi fare elicotteri, però! Non puoi fare elicotteri, cara! Uffa! Elicotterino? Adesso li faccio, muoio e ti faccio perdere la sfida! Ah, ho paura di affacciarmi! Ma con che coraggio ti affacci qua tu ogni volta? Dove lo trovi, il coraggio? Eh, io son molto coraggiosa, a differenza tua! Capito? Non c'era bisogno di farlo notare Comunque io vedo un elicottero E infatti sta iniziando a girare verso quella Dannazione Mi ha rubato l'elicottero Vedi io proprio esco impavida Lo faccio esplodere e torno dentro Mi stai sudando? Mi stai sudando? Esco fuori E muore Mi stanno facendo malissimo E l'ho pure mancato Wow Sei una persona tristissima Non lo so penso che abbiamo dei puliziotte anche sotto Quindi non appena esci fuori tu non li vedi ma ti sparano Dannazione non ho più giubbotti antiproiettili Li ho finiti E siamo solo a 10 minuti No Questo dell'elicottero era abbastanza una cosa un po' rischiola Sì dovevo evitarla Perché tu sei piena di giubbottini ancora Io invece li ho finiti tutti Sì a me non colpiscono bene perché mi limito a coprire Arrivano persone vai ci penso io Certo che così non ti colpiscono Tutto ok? Sì 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 a posto Ok meno male Mi stavo affacciando Ok E guarda cosa ho trovato Lo vedi? Secondo te cosa sta facendo? Sta controllando la zona Come sta meditando? Dici? Ha detto che non aveva voglia di partecipare a questa sparatoria Scusi Ma quando noi facciamo tutto sto casino non si può meditare Diciamo che adesso sta riposando in pace Esatto Ok Poveretto non se lo meritava Allora mi voglio affacciare un attimino Devo trovare il coraggio No ma Che hai combinato? Ce n'è una alla destra Sono tipo E prendete quelle foto che vedi delle caprette che stanno in montagna con l'inclinazione assurda? Hai mai visto quelle foto? Ok Nel caso la metto durante l'editing se ne trovo una I poliziotti sono uguali Stanno in un'inclinazione impossibile a spararti Sono diventate i caprette Sono diventate delle caprette I poliziotti capretta No ma sono geniali quelle foto Cioè sto proprio No sono la cosa più bella del mondo Una di quelle cose che io le guardo e rido per dieci minuti Proprio dieci minuti davvero da sola Perché sono bellissime Sono bellissime Non ci credo L'elicottero mi ha pure scrivato due missili Ci sei un attimo? Sì dimmi Mi devo cambiare il giubbottante proiettile Perché qua si prendono parecchi colpi e ne ho presi E te l'ho detto vai vai Sì ne ho presi diversi quindi me lo devo mettere Sì e mi sa che mi mangio anche due snacks Faccia pure Sì sì tutto il tempo che vuole Non c'è mica un esercito qua fuori No fatto 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 Stata veloce Torna a coprire tu va Perché io non ho più i giubbotti Quindi ogni volta che mi colpiscono Allora io questo è il secondo che uso Quindi ne ho ancora un altro Sono messa abbastanza bene Giusto così ci dividiamo capito? Perché si prendono davvero tanti colpi Però Mi dispiace devo rischiare la serie Per ammazzare quel poliziotto capretta Mi ha fatto un male incredibile Io non lo posso accettare Perché tu non essendo una capretta Non riesci a stare così Esatto E vorresti stare troppo nelle montagne in pendenza Capito? Aspetta che c'è un elicottero Dimmi che ho ammazzato il conducente Non lo so Mi sembra che si stia schiantando Sta andando in una direzione strana Oh sì Ciao bello Ho distrutto un elicottero sparando a mitra Dà una soddisfazione maggiore Allora snack Devo tornare di nuovo pieno di vita E vado ad ammazzare il poliziotto capretta Vai Sto rischiando eh Nel caso ti lascio sola per gli ultimi sei minuti Ma no Ma dov'è poi scusami? Guarda il mio schermo Anzi no è troppo pericoloso Vabbè Praticamente da qui esci fuori Polizotto capretta Aspetta non posso parlare Vedi era qua Ora non c'è più Non potevo guardare che sta arrivando un sacco di polizia Aiuto Tutto ok col giubbotto? Sì sono a posto Sono a posto Ok perché se c'è bisogno di cambiarlo ti davanti mona manda No no Perché adesso una macchina della polizia si è a capovolta da sola E sono fermi dentro la macchina Capovolti a giocare a briscola secondo me Cioè sta polizia è terribile Sì Ma non è possibile Decisamente Decisamente Lì è tutto a posto? Sì Sì Vai Elicotterino Guarda questo elicottero con te vicino E vabbè Ma che ci fai lì sopra? Me lo voleva far atterrare addosso Sappi che mentre lui cercava di farmi atterrare gli uomini addosso Ok Ho sparato il conducente due montelle La gamba e sentivo Ma povero Però non ha ceduto È stato bravo Non si è schiantato Visto Io al posto suo avrei mollato tutto Me lo sarei andato Invece lui rimaneva lì che cercava di far scendere il suo collega Che poi è poverina morta E vabbè E capita Cosa che capita Ma quanto siamo? È fatta C'abbiamo fatta 19 minuti e 50 Io mi stavo divertendo a cecchinar i puliziotti che scendevano Perché sennò stava diventando noioso Ah sì? Quindi mi stavo divertendo a cecchinar tutto quello che vedevo È stato molto molto entusiasmante Ma la sigaretta mi ha fatto scendere di vita invece che salire Come nella realtà No Allora aspetta che mangio un po' di caramelline O qualunque cosa siano queste cose Siamo pronti per l'uscita scenica? Sì Da dove andiamo? Perché qua davanti ci sono sempre i puliziotti E anche dall'altra Secondo me La nostra uscita scenica sarà Noi che svarchiamo la porta e moriamo Allora io ho delle molotov Ok E cosa ci vuoi fare con le molotov? Fare l'uscita scenica Allora Perché il mio personaggio cammina lentissimo? Aspetta Aspetta spostati Come? Devo cercare di ammazzare quelli che stanno sotto Ok Quindi cerco di lanciare delle granate Non me ne ho appena ammazzato qualcuno Sì 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 Bello gente che brucia Però ce ne sono ancora Ok Attenta che ne arriva uno che ci spara Oh oh Non ho messo una granata qui Mi sono ucciso Ma come? Ma come fai schifo? Cioè io sono quasi morta perché mi ha sparato un sacco Cioè cavolo L'uscita scenica Ma io volevo fare l'uscita bellissima Come nei film che l'esplosione alle spalle tu corri Capito? Allora Allora falla fare a me Aspetta Falla da dove c'è la macchina Perché così ti guardo con il fucile da cechino Eh ma come facciamo? Cioè? Cioè tu mi fai esplodere qualcosa e io corro No no Vado Vai e esci e fai quello che vuoi Mi vedi? Sì ti sto guardando Salta però Vado A sinistra brava? Vado Sì Faccio esplodere tutto su di bordo Sei già morta? Eh sì È molto triste Beh la mia morte è stata più triste Hai visto che bella uscita scenica? Sì è stata bellissima Con due molotov contate Con il fucile da cechino I consolini erano secondo me erano emozionati 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 in questo momento Tantissimo Hai scaldato il cuore e l'anima Non riuscivano a contenere le loro emozioni di sicuro Secondo me erano in piedi sul divano urlando Urlando Vai per i nichi Vai Capito? E vedevano tutto a rallenti con le molotov che partivano Esatto Invece poi sto morta E ho distrutto le loro emozioni Abbiamo finito? Sì È stata divertente come sfida Mi è piaciuta Sì molto particolare Abbiamo secondo me appena dimostrato che scappare è davvero durissima Quindi secondo me Quella potrebbe essere davvero una sfida super epica Quindi speriamo che volete vedere anche il continuo Perché è sempre una specie di continuo di questa challenge Come detto la prossima challenge sarà su nascondino Mentre il prossimo video è GTA Lo facciamo su SEO Dato che dobbiamo come promesso vendere tantissima merce nel nostro primo magazzino E quindi vediamo un pochettino Comunque avremo 500 mila dollari da spendere Che vedremo un po' dove usarli se il SEO Motor Club Una macchina Una casa Vediamo un po' Probabilmente qualche potenziamento del club o del SEO Non lo so Non lo so Non lo so Magari consigliateci come spendere Dateci i consigli Così poi decidiamo Facciamo così Vi lasciamo La decisione La decisione nei commenti E anche un sondaggio Vediamo E poi vediamo Magari l'idea più originale la utilizzeremo Ok Mi piace Ci sta Ci sta Spero che si riesce così Ci lasciateci un bel like E se la prima volta che vi ho dato il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao